In questa seconda giornata del BCT settima edizione spazio anche al mondo del food. Giuseppe Battaglia, Luca Pappagallo e Gesualdo Vercio ci racconteranno questo binomio tra il mondo del food e la televisione. Ascoltiamo l'intervista ai microfoni di Benevento News24.it Farei un torto a tutte le ricette che amo. Allora, lo sfincione. Sì, lo sfincione. Io sono molto più semplice, spaghetti al pomodoro. Ma guarda lo sfincione è semplice. E io pizza, pizza, assolutamente pizza. Quanto è importante documentarsi prima di fare una ricetta? Cioè tutto quello della ricerca, dei prodotti tipici, dei prodotti? Ma per me è stato un po' quello che quando ho iniziato ho fatto. Cioè, prima ho iniziato con le ricette che mi rappresentavano. Poi ho cominciato un po' a studiare anche le ricette, quelle che stavano scomparendo. E quelle che ho voluto riportare in vita. Ed è questo un po' la mia mission adesso. Potevo anche se inventa anche noi, in cucina sono una scuola. Sì, in cucina ci vuole creatività, non ci sono dogmi. All'inizio, quando portavo dei cambiamenti, mi criticavano perché le ricette tradizionali devono essere fatte in quel modo. Invece bisogna anche mettere del proprio, sempre. Mi è mai capitato di inventare proprio? Ah sì, 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 certo, quotidianamente. Come è andata, insomma? Eh, bene, a casa mia, sì. A casa mia, bene. A casa mia, bene.